Nuova puntata di un'altra rubrica storica del canale, anche in questo caso non voglio rinunciarci, ed è la rubrica di consigli a tema Prime Video. Dopo aver realizzato la puntata dedicata a Netflix, parliamo dell'altra grande piattaforma di streaming che abbiamo sempre in qualche modo messo in evidenza nel corso di questi anni. Anche oggi vi andrò ad elencare 7 film tra quelli secondo me maggiormente interessanti che arriveranno su Prime Video durante il mese di ottobre. Vi ricordo che non è una classifica, non andrò in ordine, è pur vero che tra i film che vi andrò ad elencare ce ne sono alcuni che meritano maggiormente la nostra attenzione. A mio modo di vedere però ecco, andrò in ordine sparso. Vi ricordo anche che in alcuni casi può succedere anche che io i film, alcuni film non li abbia già visti, non li abbia ancora visti, anche perché a volte sono anche film inediti. E per questo motivo sono dei consigli che do a voi, ma do anche a me stesso. Vi ricordo anche che non sono tutti i film presenti su Prime Video, ovviamente tutti quelli che escono, se avete altri consigli scriveteli nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella e se volete lasciate anche un vostro mi piace. Ma bando alle ciance ed io direi di iniziare appunto questa carrellata di 7 consigli per dei film che sbarcano su Prime Video durante il mese di ottobre. Voglio iniziare innanzitutto con un film che credo sia inedito, perlomeno in Italia, è un film con la presenza tra gli altri di Josh Brolin e Peter Dinklage ed è Brothers, film che arriva su Prime Video a partire dal 17 di ottobre. Tra l'altro ho fatto una fatica immane nel trovare la trama di questo film in giro su internet, sembra che sia un segreto di stato e dall'unica fonte che ho avuto la possibilità di recuperare temo anche di essermelo spoilerato, quindi grandi geni del male. Vi racconto in maniera molto rapida, non vi faccio spoiler ovviamente, racconta la storia di un ex criminale appunto interpretato da Josh Brolin che è costretto anche a rigare dritto perché appunto viene rimesso in libertà ma la sua vita viene un po' sconvolta, scombustolata dal fatto di avere a che fare con il suo fratello gemello. Quindi, interpretato da Peter Dinklage. Ora, io non so se in realtà questo sia un film, una sorta di remake o reboot dei gemelli, film ovviamente di ormai una trentina di anni fa con Ardon Schwarzenegger e con Danny DeVito. Anche lì chiaramente si parlava di due persone, di due fratelli gemelli, chiaramente dalle caratteristiche molto diverse. Non mi sono documentato più di tanto anche perché, come vi ho detto, non si trovano tantissime informazioni su questo film Brothers e non volevo spoilerarmelo più di tanto, quindi mi sono fermato nella ricerca. Sappiate che arriva su Prime Video a partire dal 17 di ottobre, quindi film che sbarcherà più o meno a metà mese. Staremo a vedere, vedremo se gli darò una possibilità o meno, anche se appunto temo di essermelo già spoilerato in parte, ma vabbè, va bene lo stesso. Quindi Brothers, 17 di ottobre su Prime Video. Il 7 di ottobre invece sbarca su questa piattaforma un film che è arrivato in sala qualche mese fa ed è Challengers di Luca Guadagnino, film che io non è che abbia apprezzato tantissimo. All'epoca feci una video recensione nella quale appunto spiegavo il mio punto di vista, un punto di vista che mi portava comunque a riconoscere diverse qualità di questo film, in questa sorta di triangolo d'amore e abbiamo tra i protagonisti Zendaya ma anche Joshua Connor per esempio. Un film che però io non ho ben compreso per quale motivo abbia scatenato questi entusiasmi sfrenati in tante persone. Ribadisco, è un buon film, un film interessante che utilizza anche la metafora del tennis per cercare di spiegare la vita, mettiamola così, un po' come aveva fatto anche Woody Allen una ventina di anni fa con Matchpoint, però ecco non l'ho trovato questo film geniale, questo film sconvolgente, questo film in grado di rivoluzionare anche il modo di raccontare l'amore, no, niente di tutto ciò. Un bel film ovviamente, ci mancherebbe altro, soprattutto tecnicamente parlando anche se io l'ho trovato un po' troppo, come dire, forzato anche da un punto di vista tecnico come se Luca Guadagnino volesse far vedere a tutti il bravo regista che, secondo me si perde ogni tanto in questi momenti un po' autocelebrativi, però tante non è un brutto film, vi consiglio di darvi un'occhiata qualora non doveste averlo visto in sala, a partire dal 7 di ottobre lo trovate appunto su Prime Video. Il 15 di ottobre invece arriva su Prime Video un altro film che è arrivato nelle sale nei mesi scorsi ed è Ghostbusters Minaccia Glaciale, l'ultimo film sui Ghostbusters realizzato in ordine di tempo, ne ho parlato anche in questo caso in una video recensione diversi mesi fa, un film che devo dirlo non mi ha entusiasmato, anzi non mi ha convinto proprio, ve lo voglio far notare, ve lo voglio segnalare per dovere di cronaca, se ve lo siete persi in sala e volete recuperarlo, anche perché magari avete visto tutti i film sui Ghostbusters, sappiate che appunto dal 15 di ottobre sbarcherà su Prime Video, però io lo ritengo forse il più debole tra tutti i film sui Ghostbusters, si, si ritorna un po' a respirare un'aria antica di avventura tipica alla Ghostbusters dopo il terzo capitolo che invece era stato una sorta di capitolo celebrativo, un capitolo dedicato alla memoria soprattutto, con questo si appunto si ritorna ad un'avventura in senso stretto, in stile Ghostbusters, peccato che però secondo me non ci sia nulla del fascino dei Ghostbusters che abbiamo imparato ad amare negli anni 80, un franchise che a mio modo di vedere non ha più nulla da dire ed infatti non credo che nel corso dei prossimi anni realizzeranno altri capitoli, anche perché è stato un film deludente anche da un punto di vista degli incassi, da un punto di vista del box office, quindi non credo ci sarà spazio per ulteriori capitoli, però ecco, se siete interessati dal 15 di ottobre lo ritroverete su Prime Video Ghostbusters Minaccia Glaciale. Dal 26 di ottobre invece sbarca su Prime Video un film horror che ho anche recensito nel corso degli scorsi mesi ed è Immaculate, film con Sidney Sweeney, protagonista principale, un film che racconta la storia di questa suora che in qualche modo deve fare i conti con il maligno, deve fare i conti anche con delle compagne di vita, mettiamola così, all'interno del convento, che le porteranno ad avere qualche problema, anche a una personalità di spicco nella chiesa interpretata tra l'altro da Alvaro Morte, il professore della Casa di Carta. Non vi sto qui a raccontare la trama, se volete sapere nel dettaglio la mia opinione, trovate la video recensione, anche qui ci troviamo di fronte ad un film che da tante persone è stato considerato uno dei migliori horror degli ultimi tempi, degli ultimi anni, non è un pessimo film, si perde completamente nel finale, per me il finale è completamente illogico, delirante, probabilmente è questo il termine giusto, quindi gli ultimi 10-15 minuti deliranti totalmente, non è un pessimo film, cioè non è il peggiore film horror che io abbia visto in tempi recenti, perché in tempi recenti, come del resto da ormai tanto tempo, di monnezza ne è arrivata a tonnellate, tutto sommato si salva anche Sidney Sweeney, che io non conoscevo in maniera approfondita perché non avevo credo mai visto ancora nessun film con lei presente, è una delle star in maggiore ascesa tra l'altro negli ultimi tempi, lei tutto sommato se la cava nei panni della protagonista, in un film horror che aveva anche delle buone potenzialità di base, delle buone idee, alcuni spunti interessanti, però purtroppo largamente inespressi, a mio modo di vedere, quindi dategli un'occhiata, lo trovate su Prime Video a partire dal 26 di ottobre, credo sia disponibile anche in un video se non ricordo male, Immaculate con Sidney Sweeney, quindi se siete interessati lo troverete su Prime Video. A partire dal 1 di ottobre invece è già presente su Prime Video l'intera saga di James Bond, una saga ovviamente ultradecennale che va avanti dagli inizi degli anni 60 fino agli anni scorsi con tanti protagonisti, tanti attori protagonisti che si sono avvicendati nel corso degli anni, da Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, tra gli altri Daniel Craig, che chiaramente è stato anche l'ultimo James Bond. L'ultimo tra l'altro in ordine temporale è da qui in avanti, quindi non si sa davvero che fine farà la saga di James Bond perché non si sa se verranno realizzati ulteriori capitoli, Daniel Craig ha abbandonato tra l'altro il personaggio di James Bond, si vocifera anche che la saga possa continuare con un personaggio al femminile, staremo a vedere. Nel frattempo se volete dare una rispolverata alla memoria oppure se volete approcciarvi per la prima volta alla saga di James Bond, sappiate che dal 1 di ottobre la trovate interamente su Prime Video, tra l'altro è una delle mie lacune perché io non ho visto tutti i film di James Bond, anche perché sono più di 20, ho visto tutti quelli che hanno come protagonista Daniel Craig, ne ho visti alcuni sparsi qui e lì nel corso degli anni, dovrei fare una mega maratona per recuperarli tutti, chissà che a poco a poco non ci riesca. Quindi la saga di James Bond a partire dal 1 di ottobre la ritrovate su Prime Video, a partire dal 15 di ottobre invece sbarca su Prime Video, un grande capolavoro dei tempi recenti, mettiamola così, degli ultimi 20 anni, grande film di Martin Scorsese ed è The Wolf of Wall Street, con la presenza ovviamente di Leonardo DiCaprio, grandissimo protagonista di questo film, un film che tra l'altro ricordiamolo è un film biografico, racconta una storia realmente accaduta, quella di Jordan Belfort, film secondo me eccezionale sotto tutti i punti di vista, tecnicamente parlando, la colonna sonora, le grandi prove attoriali ovviamente, con Leonardo DiCaprio sugli scudi, film che io mi auguro e spero che abbiate già visto, se non l'avete ancora già visto, a partire dal 15 di ottobre non avrete più nessuna scusa, quindi lo troverete appunto su Prime Video disponibile, dategli un'occhiata, regalatevi circa tre ore del vostro tempo, perché è un film che dura anche abbastanza, ma sono tre ore che volano via in maniera rapidissima, quindi sappiate, è un film che secondo me sarà in grado di entusiasmarvi qualora non lo abbiate ancora già visto, quindi 15 di ottobre, The Wolf of Wall Street. E chiudiamo con il settimo consiglio, chiudiamo davvero in bellezza con questi ultimi film, perché a partire dal primo di ottobre troviamo su Prime Video Scarface, film chiaramente di Brian De Palma, film che ha ulteriormente ingigantito quella che è la statura artistica di Al Pacino nei panni di Tony Montana, film che io non credo abbia bisogno di alcuna presentazione, perché ha scritto la storia del cinema, un personaggio che è diventato iconico, anche proprio visivamente parlando, esteticamente parlando, film gigantesco, ricordiamolo, è un remake dello Scarface, diciamo degli anni 30, di Howard Hawks, uno dei pochi casi, ma neanche tanto pochi in realtà, di remake che riesce a, come dire, a mettersi sullo stesso piano, addirittura in alcuni casi anche a migliorare quello che era stato fatto con il film originale, ma qui in realtà stiamo parlando di due capolavori, seppur molto distanti nel tempo, Scarface è un film da vedere, un film da conoscere, un film da ammirare, un film da amare, spero, davvero, quindi come di Brian De Palma, con un immenso, gigantesco, davvero stratosferico Al Pacino, in quello che forse era il periodo di maggiore forma nella sua carriera, siamo agli inizi degli anni 80, se non ricordo male, quindi nel periodo forse davvero top, migliore, il cosiddetto Prime, come si suol dire adesso, era nel Prime della sua carriera, quindi grandissimo, grandissimo film, che già a partire dal primo di ottobre trovate su Prime Video, quindi chiudiamo con Scarface questa carrellata, fatemi sapere che ne pensate, come sempre fatemi avere il vostro parere qui sotto nei commenti, dei film che vi ho elencato, se ci sono altri film che vi sentite di consigliare, vi leggerò chiaramente come sempre con piacere, io vi ringrazio come sempre anche per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, vi invito a lasciare un vostro mi piace per supportare questo video, commentatelo, come vi ho detto, noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima videorecensione, io credo e spero di poter realizzare anche la top and flop del mese di settembre, chiaramente, facendo un po' il riepilogo di quelli che sono stati i film migliori e i film peggiori che ho visto durante il mese di settembre, quindi spero di potervi portare anche quello, nel frattempo io vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto, ciao a tutti!